Ciao a tutti, sono in viaggio, sono qui ad Amsterdam e sto volando verso gli Stati Uniti una meta dove sono stata chiamata ad andare, un viaggio mistico verso una terra magica l'Arizona, in particolar modo Sedona, vedremo cosa ci riserverà il destino di questo viaggio intanto un messaggio che voglio darvi è questo, aprite il vostro cuore, apri il tuo cuore e ascolta sempre quelli che sono i messaggi, anche nelle più piccole cose perché comunque dentro di te c'è una grande verità, ci sono delle informazioni che arrivano da tutte le parti ti faccio un esempio, ieri ho comprato un paio di scarpe comode per il viaggio e la commessa è andata a prendere un altro paio da porre in vetrina e ho avuto il segnale, cambiale, chiedi le altre e ho detto ma no dai, cosa chiedo le altre? Perché? Per quale motivo? Ebbene mi sono accorta che erano tutte spucite, solo che non ho potuto cambiarle perché ero già partita questa è una cosa piccola e sciocchina, neanche tanto importante ma era un messaggio per me per che io mi ricordassi di ascoltare sempre di più e mille, mille segnali possono arrivare nella tua vita quindi ascolta sempre quella verità che c'è dentro di te possono essere messaggi, vuoti, segnali, sensazioni possono arrivare in tanti modi, però ascoltali sempre e questi segnali mi hanno portato qui e tra poco negli USA Ciao!